Grazie a tutti. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. Hai fatto morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Chris, ti sono pulito. Se vedo anche solo un secolo... Basta! Brutto, stronza! Hai finito? Si, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fanno? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori. Cos'è? Uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto. Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure. Prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe. Ascoltami, stronza. No, fanculo, mi hai ammanettato. Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Ma non importa perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Satemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio.